Una buona domenica dalla relazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre regolare sull'intera rete stradale, autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 per lavori in orario 21.6 del 25 e 26 luglio sarà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio verso Roma. Chiuso le stazioni di Rioveggio in entrata verso Roma e di Pian del Voglio e Roncopilaccio in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze possibili disagi in entrambe le direzioni per una riduzione di carreggiata tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pluneta. Per consentire un controllo tecnico al sistema di bordo, il treno regionale 34 156 Firenze Santa Maria Novella, Pistoia, è stato cancellato. Viaggiatori con il treno 34 160. Lavoro di Firenze Smart in corso a Firenze in Piazza delle Cure, possibili disagi alla circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con regione toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!